Signore e signori Signore e signori Signore e signore Se la pallona non ti permette di uscire su colpi, fai o alto o il pallonetto interno sulla Ferretti e ce la rigiochiamo a muro difesa Ok? Dai, ragiona, forza Via Legnaro il servizio Comunificativo Giorno! 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 Agolio il mio Clifizio! Agolio! No, 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 no. 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 No, no, no.